Buongiorno. Era mio figlio. Sono da Target domenica a mezzogiorno, devo prendere due o tre cosette e poi vado a casa. Una mia amica mi ha chiesto di procurargli una scatola, uno di questi, questi funzionano, quindi gliel'ho trovato. Se l'ho trovata bene per questi che li avevo procurato, adesso li prendo in nuova confezione. Questo è il mio bottone del brand di Target, 10mg, ecco qui. Grazie a tutti. Questi sono carini e mi adoro il colore. Questi sono 1,99. Made in America. Questo ci piace e lo compriamo, perché mi fa comodo. Mi basterebbe, se ne vorrebbe due, però uno mi basta. Ok, Made in America. Portiamo il nostro paese. Grazie. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.